Terra Amara non andrà più in onda dal 20 settembre 2022. Non si tratta di uno stop di qualche ora, come quello avvenuto durante questa settimana per via del funerale della regina Elisabetta, ma di una vera e propria sospensione. Come ogni settembre, riparte il palinsesto autunnale Mediaset che prevede la messa in onda di uomini e donne e amici che occuperanno da domani la fascia del daytime di Canale 5. A seguito di questo cambio nel palinsesto, non ci sarà più spazio per trasmettere Terra Amara. Le altre sop, invece, come Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani continueranno a essere regolari, l'unico cambiamento è che Un Altro Domani andrà in onda alle 16.40, orario precedentemente occupato da Il Segreto. Quando riprenderà Terra Amara? La sospensione di Terra Amara è però solo temporanea. Infatti, secondo fonti Mediaset, la sop tornerà a novembre, dopo il gran finale di Una Vita, ma ancora non si sa in quale fascia oraria.